A Roma il vertice con la struttura commissariale di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e i dirigenti operativi con i sindacati. Da parte della FIM CISL è stato ripetuto, noi ci attendiamo risposte urgenti sulle cose che riguardano i lavoratori e la fabbrica che sono stati lasciati in sospeso per troppo tempo. In pratica manutenzioni, sicurezza e rilancio. Il vero problema, il nodo, resta la politica nazionale dal punto di vista del piano industriale e soprattutto di ciò che accadrà a livello internazionale quando Acciaierie d'Italia è stata messa sul mercato. Le attese da parte degli imprenditori, dei mega imprenditori del settore a livello di indiani, di ucraini ma anche dell'arredi italiana che aspetta le decisioni governative ma anche le scelte di carattere industriale a livello europeo.